Grazie a tutti. Il regalo gli va fatto, perché ogni tre oggetti che comprano, uno glielo regalo. Se te poi questo già glielo mette 39,95, quindi avete capito bene. Trovate i trolli, bagagli a mano, fra l'altro questo EasyJet, rigido, giusto, robusto, a 39,95. Le comprate tre e uno è un regalo. Ma non solo questa cosa, perché potete comprare, o meglio, scegliere tre prodotti a vostro piacere di tutto il bottegone, tranne il reparto occasioni. Non devono essere necessariamente tre oggetti uguali tra loro. C'è questo che è un bel trolley, c'è quello che è un bello stivale. C'è quella che è una bella scappa da uomo. Insomma, la Nike Blazer. Scegliete tre prodotti e fino a Natale uno ve lo regaliamo. Il regalo di Natale ve lo fa il bottegone della calzatura. E lo scegliete voi. Scegliete, mi ripeto, tre prodotti che sono messi in vendita al bottegone della calzatura, fino a Natale, uno dei tre ve lo regaliamo. Possono essere una scarpa da uomo, una da donna e una da bambino. Tre scarpe uguali, un trolley, un portafoglio e, che ne so, un paio di scarpe da trekking. Quindi, fagli vedere, per esempio, Federico, qualcosa di stivali che abbiamo. Guardate, che scelta di stivali da donna che abbiamo. Tronchetti, tipo motociclisti, alti. Tronchetto che va tanto quest'anno, con tutte queste rifiniture d'oro che i clienti ce le chiedono spesso. Guardate che prodotti, alti, bassi, di tutte le... Abbiamo di tutto, veramente. Non solo questi all'ultima moda, ma quelli classici, per esempio, che li trovate in altri reparti del bottegone, col tacco, senza tacco, con la foto di pelle, caldi per l'inverno. Abbiamo veramente tante cose, sia da donna, poi da uomo e da bambino. Purtroppo non abbiamo chiaramente il tempo per mostrarvele, ma vi diciamo e vi ripetiamo che il regalo di Natale lo dovete venire a prendere gratis al bottegone della calzatura, perché scegliete tre prodotti che sono esposti al bottegone, tranne, chiaramente, nel reparto occasioni dove le scarpe costano veramente niente, chiaramente. Scegliete tre prodotti a vostro piacere. Uno dei tre è gratis, quello che costa meno. Ma non necessariamente deve costare meno, basta che costi uguali agli altri. Ok? Regalo di Natale al bottegone, tanti auguri, buon risparmio. Ciao. 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 Grazie a tutti